Col brigantaggio la civiltà contadina difendeva la propria natura contro quell'altra civiltà che le sta contro e che, senza comprenderla, eternamente la ha soggetta. Perciò, istintivamente, i contadini vedono nei briganti i loro eroi. Il brigante è come la serpe, se non lo stuzzichi, non morde. Briganti, anno de grazie 1584, un romanzo storico.